È il giorno di Zeman a Pescara, il tecnico Boemo è arrivato intorno alle 11.10 agli uffici del presidente Daniele Sebastiani, accompagnato dal DS Daniele Derricarri, si sono intrattenuti per circa due ore all'uscita. Con le immagini di Diego Martelli vi facciamo ascoltare proprio le primissime dichiarazioni del tecnico Boemo. Adesso è stato qua, vuol dire che sono contento. Fatto pace con il presidente? Ma noi eravamo sempre in pace. È particolare, a parte che è una bella città, c'era un bel ambiente, io spero di ritrovare lo stesso ambiente. Io sono venuto per lavorare, mi piace calcio, mi piace lavorare sul campo e speriamo che con il lavoro si raggiunga qualche obiettivo importante. E io li vorrei vedere come 12 anni fa. Buon lavoro mister, ci vediamo in conferenza. Grazie. Presidente Marinelli, l'impressione di rivedere Zeman? Beh, è una bellissima impressione, anche per tutti gli altri, quelli che magari sono stati a pescare, sono stati bene. Abbiamo trascorso degli anni bellissimi e quindi la cosa ti fa piacere. Che cosa le ha detto Zeman? No, niente, se parlate del più e di meno, degli amici comuni, un po' di tutto, di tutto quello che è la situazione, molte volte come si verificano determinate cose che magari anche loro non riescono a capire. C'è una squadra che... Quindi hanno fatto pace comunque col presidente? Ma sì, ma ti appare. Può essere l'uomo giusto? Ma non hanno mai litigato. Oddio, l'uomo giusto, l'uomo giusto bisogna essere anche fortunato.